La tragedia all'improvviso. Tutto accade in pochi terribili istanti in un grande magazzino di materiali per l'edilizia, la Tecnomat di Altavilla Vicentina. Un bancale, crollando, avrebbe travolto l'operaio di 29 anni. Secondo una prima ricostruzione pare che la giovane vittima all'esterno del magazzino stesse espostando alcune finestre quando il carico gli è caduto addosso davanti agli occhi dei colleghi che hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del Suem 118 che hanno prestato le prime cure per poi trasportare il ferito già in condizioni gravissime all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove però è morto poco dopo a causa dei traumi riportati. Adesso sono in corso le indagini dello Spisal e dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Oggi i sindacati intervengono alla vigilia della 74esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebra la seconda domenica di ottobre e proprio oggi si piange l'ennesimo morto. L'ennesimo infortunio. Sono usciti da poco i dati che si dicono che il Veneto è una delle regioni con minori infortuni d'Italia ma questo non basta. Un altro martire sul lavoro e adesso non abbiamo niente da dire se non stringerci intorno alla famiglia e aspettare gli elisiti dell'indagine per riuscire a capire le casualità. Seguiranno ovviamente le posizioni necessarie e chiare che non solo un sindacato ma tutta la cittadinanza deve tenere davanti a questo martirio che sta toccando i posti di lavoro.